E' partito poche ore fa da Malpensa a destinazione Chicago. La nuova avventura del mental coach e atleta paralimpico Andrea De Vicenzi da Martignana di Po lo porta negli Stati Uniti percorrendo la ruta dove sono nate la musica jazz e la musica blues. Percorreremo 2600 km che ci porteranno a New Orleans attraversando Indianapolis, Nashville, Jackson e Memphis. Un'avventura dove sarò in solitaria in bici ma con me ci sarà Nicolas e Federico che ci occuperanno di tutta la parte di fotografie, di foto e appunto di video. Tanto sport perché i chilometri saranno tanti ma uno degli elementi, forse l'elemento più importante è quello legato alla musica. Io sono musicista da tantissimi anni, ho studiato chitarra e sassofono. Qui siamo sulla blues Aue, perciò la strada del blues. Dal 30 maggio appunto fino al 24 giugno sempre in sera alla sua bicicletta. Tutti i giorni dalle 16 alle 17 italiane, dalle 9 alle 10 americane faremo questa diretta con un musicista dall'Italia che ci racconterà la sua passione della musica, da cosa è nata, il perché della scelta di questi strumenti e poi grande soddisfazione ci suonerà qualche pezzo appunto dal vivo con il suo strumento. Potete seguirci dal sito www.andrea.vicenzi.it, dai miei canali social e racconteremo le storie, racconteremo la cultura, porteremo anche il nostro territorio in America. E in molti casi, in molte occasioni sarà come sentirsi a casa. Venerdì 31 maggio saremo ospite del console generale italiano presso l'Istituto Italiano di Cultura dove ci ha concesso un'intervista dove parleremo e incontreremo anche la prima comunità italiana e con le comunità italo-americano racconteremo anche il perché della scelta di queste persone che hanno chissà quando lasciato il nostro paese e ora si sono ricostruiti un Grazie. 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 Grazie.